Parlo che non funziona niente, non ho fiducia nemmeno di una comprensa. Le strade della sanità in Calabria sono infinite. Come moltepi ci sono le storie di viaggi della speranza che spesso non oltrepassano il confine regionale, ma si consumano in presidi sanitari distanti anche centinaia di chilometri, divenuti veri crocevia di vite. Io vengo da Marino di Giosa, provincia di Reggio Calabria. Qua mi da nove anni che faccio la diarisi e mi trovo benissimo. Da nove anni Esther risale il litorale Ionico e approda al centro di alisi di Soverato, dove ha trovato una buona assistenza. I ocri non funzionano niente. Quando sono andata a fare la dialisi non mi dicevano nemmeno che devo fare la dialisi, che mi devo fare la fistola senza dirmi niente. Non si spengono i sorrisi, nonostante i periodici trattamenti di pulizia del sangue che scavano profondi segni nel corpo e nello spirito. Qui è Soverato, è una bella città, ma non c'è un mezzo che porto in ospedale. Come fanno gli anziani a venire qui? Anche Francesco proviene dalla Locride, precisamente da Riage. È venuto a trascorrere le vacanze in Calabria, da Torino, non senza difficoltà però. Io direi che comunque sia, non dico in tutto il giorno, però negli orari in cui fanno dialisi, c'è solo un mezzo che porta e riporta via. Io pago 4 euro da ritorno sul Pulma, per farmi portare qui sopra ne pago 5. E meno male che c'è quel vecchietto che è simpatico tra l'altro, l'altro tutto. 4 euro di biglietto d'autobus per raggiungere Soverato da Riage e 5 euro per arrivare all'ospedale, grazie al servizio di fortuna ideato da un residente per sopperire alle carenze logistiche della località marittima. E come fa colui che non ha la macchina? Luana Costa per la Cignus 24.